Oggi era Max Arcadia e vi propone in vendita un appartamento a Noceto in via Papa Giovanni Paolo I al Civico 5. L'appartamento è a secondo piano ed è servito da ascensore. Entrando abbiamo il soggiorno con l'angolo cottura ed accesso diretto ad un comodo balcone. La zona notte ha due camere da letto. Il bagno con la doccia. Completano la proprietà, un garage doppio e la cantina. Vi aspettiamo in Open House il giorno 18 maggio dalle ore 10 alle ore 12. Grazie.